Macchina che accelera e lascia i concorrenti con Phoenix Wise all'interno che cerca di mantenere la posizione nei confronti del numero 4 Pandemonio AC. Poi più all'esterno invece c'è Peter Pan Lilou e così si arriva sulla prima curva con Phoenix Wise al comando. 200 in 15 e 3, tanto gli altri sono molto sfilacciati con ora il numero 6 Peter Pan Lilou che rileva il comando delle operazioni nei confronti di Phoenix Wise e quindi ancora più indietro il numero 4. Pandemonio AC a precedere Putter e poi gli altri 36 il passaggio ai 400 di corsa spostato dalle retrovie pericledesi che cerca di guadagnare posizioni per linee esterne. Quando siamo a metà della seconda curva con sempre al comando in maniera abbastanza evidente il numero 6 Peter Pan Lilou. Adesso la mossa anche di Petunia Guala che è andata in anticipo su Pericle. Petunia che agli 800 è la nuova leader in 1.4 e mezzo, andatura molto blanda per questa prima parte di gara con Petunia Guala che si prodica per acquisire il comando delle operazioni. Cosa che avviene al chilometro. Passato sul piede dell'1.19.4 Petunia che è il leader ora con Pericle all'esterno, poi Peter Pan alla corda e via via tutti gli altri. Da così adesso 800 dal traguardo. Petunia Guala Kelly della terza posizione della corda per Phoenix Wise. All'esterno c'è invece il 10 di Platini Car. Si arriva così adesso ai 700 conclusivi. Dalle retrovie prova a spostare anche Polinesia. Quando siamo ai 600 conclusivi. Ancora un 15 di frazione. Quando davanti sempre Petunia con Pericle desi all'esterno. Poi Peter Pan. Poi anche il tentativo da parte di Palma Pizze di inserirsi nel vivo della lotta. E siamo così a metà della curva conclusiva con sempre Petunia Guala che per il momento conduce. Ma il gruppo è molto raccolto. Sono molto stanchi i cavalli. Si arriva addirittura il vivo. Petunia al comando. La squalifica che coglie per i credesi. Quindi Petunia che ancora deve difendere la leadership nei confronti di Platini Car. Platini che sta passando. Platini Car che è riuscito a sopravanzare Petunia Guala. Platini Car che nel finale si isola e viene a vincere nei confronti di Petunia Guala. E poi ancora Phoenix Wise. Quindi il successo del numero 10. Platini Car. Giovanni Montaperto 22. La quota al totalizzatore. 2,36 e 7 la distanza. Quindi 1,18 abbondante. La media al chilometro.